La ringrazio. Onorevole Palese, prego. Sì, grazie Presidente. Noi accettiamo tutte le riformulazioni, chiaramente non chiediamo il voto per le riformulazioni di pareri favorevoli. Per invece i pareri contrari ci riserviamo dove ci fosse necessità, lo diremmo volta per volta. Grazie. La ringrazio. Onorevole Palese. Onorevole Molea, prego. Grazie, Presidente. Anche noi accettiamo tutte le riformulazioni e chiediamo di non mettere in votazione. La ringrazio. Avverto che gli ordini del giorno Venitelli, numero 8, e Gebhard, 73, sono stati ritirati. Onorevole Rampelli, prego. Grazie, Presidente. Noi accettiamo la riformulazione di tutti gli emendamenti, ovviamente a eccezione di quello di... Ordini del giorno. Ordini del giorno, scusi. A eccezione di quello, affirma Giorgia Meloni, adesso la numerazione la stavo cercando, comunque non è difficile trovarla, perché l'eliminazione in blocco di due commi, ovviamente, mortifica completamente il senso dell'ordine del giorno. Va bene. Onorevole Scopelliti. Anche noi accettiamo tutte le riformulazioni per i rifavorevoli e chiediamo che non siano messi al voto. La ringrazio. Allora, intanto procediamo. Numero 1 dall'Ai... Onorevole Scopelliti, lei formalmente non è in delegato d'aula del suo gruppo, ma devo intendere che poi il suo gruppo in questo... Ok, perfetto. A questo punto passiamo all'esame degli ordini del giorno. Dall'Ai, riformulazione accolta. Labriola è favorevole. Carrescia, 3, riformulazione accolta. Argentin 4, riformulazione accolta. Rizzetto, riformulazione accolta. Marzano, riformulazione accolta. Binetti è favorevole. Venitelli è ritirato. Rigoni 9, favorevole. Rostellato, accolta. Artini, riformulazione accolta. Becchis, contrario. Dichiaro aperta la votazione. È il 12.